Bisogna trovare un altro modo di indicare le cose in questo cielo. Se lo riempiamo di disegni, vi dico, in quel disegno, guardate. Ad esempio il disegno del grande carro, che è uno dei più facili. Sono sette stelle. I latini le chiamavano i sette puoi. Septentriones. Septentrione. Dalla notte dei tempi l'uomo guarda le stelle. Questi punti di luce tornano sempre e non cambiano mai. E se dobbiamo indicarli per distinguerne qualcuno dagli altri, beh, cominciamo a giocarci. Uniamoli in un disegno. E immaginiamo qualcosa che ci sia familiare. Per ricordarli meglio, gli assegniamo poi una storia. È un modo per tenerli legati attraverso le cose alla nostra memoria. In fondo è un tentativo di portare un cielo a noi stessi per far stare lo spazio qui, dentro di noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nella nostra sola galassia ci sono stelle con pianeti simili al nostro che forse consentirebbero la vita alla nostra specie. ma raggiungerli implica tempi enormi, centinaia di migliaia di anni, milioni di anni. Allora, si è guardato ai pianeti più vicini a noi, da riadattare e rendere un po' simile alla nostra Terra, ad esempio portando dei batteri su Marte. essi utilizzando i materiali presenti sul pianeta, possono ricreare un'atmosfera come quella terrestre, rendendo possibile la vita. ma anche in questo caso il tempo necessario per realizzare questa operazione è di circa 100.000 anni. Se usciamo fuori in una giornata di cielo serena e guardiamo verso l'alto, abbiamo l'illusione che le risorse del pianeta siano infinite. Guardando invece dall'alto, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, una leggerissima nebbiolina che ci protegge, finché non la distruggiamo. Guardando invece dall'alto, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, finché non la distruggiamo. Guardando invece dall'alto, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, finché non la distruggiamo. Guardando invece dall'alto, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, finché non la distruggiamo. Guardando invece dall'alto, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, finché non la distruggiamo. Guardando invece dall'alto, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, finché non la distruggiamo. Guardando invece dall'alto, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, finché non la distruggiamo. Guardando invece dall'alto, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, finché non la distruggiamo. Guardando invece dall'alto, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, finché non la distruggiamo. Guardando invece dall'alto, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, finché non la distruggiamo. Grazie. Grazie.